Mi lascia molto si amareggiato perché ogni cosa viene ricondotta a fini che non sono di un sacerdote, di un pastore. Indignato Don Daniele Fazzi per le problemiche sfociate addirittura in un esposto in procura a causa l'imprevista sosta della processione in onore della Madonna del Galeano, compatrona del piccolo comune Brindisino, con l'iniziale percorso deviato per permettere il passaggio sotto casa della suocera del boss del paese. Una donna malata, ultraottantenne, la cui identità il parco dice però di non aver mai saputo a donare semplicemente una collanina d'oro in segno di devozione come da tradizione. Sono stato avvisato prima di uscire in processione di una persona malata che ha espresso questo desiderio di una preghiera vicino alla Vergine di Galeano, è tutto qui. Intanto il paese sindaco in testa si schiera a fianco del suo parroco, respingendo ogni illazione. Una persona ottantenne, una persona malata, forse pure è stata, diciamo, ho subito un intervento da poco, al cuore mi dicevano, proprio questa è stata pure perpetua di don Antonio, di un nostro parroco. E' roba dei santi e di noi che stanno a fare un insieme male, poverini. E' normale, perché in una famiglia che c'è una persona magari condanniamo tutti. Che reato avete? C'è male c'è.